Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? L'Umi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. L'Umi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. L'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato. L'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un'infrastruttura a salvaguardia del territorio inserito armoniosamente nel delicato contesto dell'agro aquileiese che garantisce anche la continuità della vocazione di Aquileia per la nautica di riporto e il duplice obiettivo dei lavori sul fiume Natissa per la messa in sicurezza del centro abitato di Aquileia che comprende anche la riqualificazione della viabilità di Via Dante, inaugurati oggi 17 febbraio. Alla cerimonia hanno presenziato il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, l'assessore Fabio Coccimarro e il primo cittadino di Aquileia, Emanuele Zorino, la presidente del consorzio di bonifica pianura friulana, Rosana Clochiatti, con il direttore generale Armando Di Nardo e il direttore tecnico Stefano Bongiovanni. L'opera è stata illustrata in municipio dall'ingegner Michele Cicuttini e poi sul campo dell'ingegner Eleonora Iannozzi, entrambi tecnici dell'ente di bonifica, delegata ai lavori dalla regione. Il progetto di completamento delle opere di sistemazione spondale e di difesa lungo il fiume Natissa dal costo complessivo di 5 milioni di euro giunge così alla fase realizzativa che si chiuderà tra circa un anno. A Talmassons è stata sostituita la rete di distribuzione idrica nella frazione di Fluminiano per un importo complessivo di 40 mila euro. L'intervento si è reso necessario poiché la vetusta rete in cemento amianto provocava problemi di perdite idriche, cali di pressione e interventi di riparazione in emergenza. La messa in sicurezza della rete acquedottistica in corrispondenza della piazza Generale Cantore ora garantirà ai residenti pressioni adeguate e qualità dell'acqua. Ben 80 metri di vecchi tubi sono stati sostituiti con tubazioni in ghisa a sferio idale. I lavori iniziati a novembre scorso e realizzati dall'impresa affidataria dell'Appalto hanno compreso la posa di quattro valvole di intercettazione, la sostituzione di due allacciamenti d'utenza e di un idrante sottosuolo. Una volta assestato lo scavo, assicura il sindaco Fabrizio Pitton, la pavimentazione stradale della piazza sarà completata con la realizzazione dei tappeti d'usura bituminosi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? L'Umi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. L'Umi Beer nelle sue cinque versioni disponibili, quattro per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. L'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato. L'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola pancera, il buon seme, i buoni frutti.